Bene, stiamo provando oggi un po' di componentistica del grande Franco, Franco Store di Fano Trasformatore alta fedeltà, doppio modulatore con TDA, regolatore di power e scheda eco di quelle sue Questa qui siglata è 91, simile a Colt e poi con l'effetto rifatto ma poi l'effetto lascia il tempo che trova Insomma, è una questione personale Ci andiamo ad ascoltare con il Lincoln, che non è una radio e c'è il Sena M, molto stretta di banda Però ci dà un'idea di come siamo Vediamo i Watt, vediamo che ci dà questo apparato così, col doppio Ola Trova Tango Avanti canale venti se sentite il cambio Positivo, positivo, arriva Tappa Vediamo il PPP come va Ola Trova Cambio Attenzione, canale ventesimo se sentite il cambio 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 Catta Piano interno, venti e cinque atti Cambio, cambio Poi ovviamente Adesso è tutto precario Una volta sistemato bene Avrà una resa superiore Vi faccio vedere il massimo power Andando A manetta diciamo Abbiamo Abbiamo 8 Watt in muta Prova Prova Camino Però poi giustamente Nessuno andrà mai Con la massima potenza Verrà mai